Ho reso conto dell'incontro che io assieme con il vice sindaco, l'assessore a bilancio abbiamo avuto con la dottoressa Mancini che è il secretario generale del Ministero del Lavoro, il vertice del Ministero del Lavoro. Dopo questo incontro ho avuto nel corso della giornata di giovedì dei colloqui con il ministro Fornero e con il presidente della regione Crociata e abbiamo convenuto una riunione mercoledì al massimo livello al Ministero del Lavoro con la partecipazione dei direttori generali del Ministero del Lavoro, dell'Inps, della regione e ovviamente del Comune. Nel corso dell'incontro si eseminerà quello che è l'obiettivo dell'amministrazione comunale garantire la ripresa dei servizi da parte dei lavoratori della GESIP e garantire livelli di reddito per i lavoratori della GESIP in misura almeno pari agli ammortizzatori sociali. Ed è questa la proposta rispetto alla quale avremo tecnicamente una risposta, avremo un verbale dal quale vincerà chi fa che cosa e da questo punto di vista l'amministrazione comunale ha confermato la richiesta da parte della GESIP della Cassa Integrazione dal primo di gennaio al 30 di aprile con riferimento poi al periodo del primo maggio in poi il percorso che stiamo esaminando se verrà in qualche modo verificato mercoledì farà sì che i 1800 lavoratori, tutti e 1800 lavoratori tranne coloro che possono andare in pensione che quindi in questo caso verrebbero collocati a riposo, potranno essere utilizzati per i servizi dell'amministrazione comunale. Utilizzati sempre come GESIP? No, utilizzati in quanto nel bacino della Cassa Integrazione in deroga con il contributo finanziario del Comune di Palermo. Fuori si vociferava a maggio tutti al lavoro? Noi stiamo lavorando perché si possa raggiungere questo obiettivo ma contemporaneamente stiamo lavorando perché per questi quattro mesi ci sia la Cassa Integrazione in deroga che abbiamo già richiesto il 2 di gennaio. Il nuovo liquidatore si inserirà oggi, il nuovo liquidatore provvederà a chiedere nuovamente distanza di fallimento che non è stata accolta dal Tribunale perché ha rilevato non essere stato sufficientemente documentato la nostra provincia di insolvenza e quindi noi vi proporremo una questione al Tribunale fallimentare perché in questo modo abbiamo il fallimento della GESIP. Mettiamo in sicurezza il TFR, il trattamento di fine rapporto dei lavoratori e il percorso potrà continuare con le modalità che mercoledì fisseremo nell'incontro al Ministero del Lavoro. Per quanto riguarda invece le retribuzioni, i lavoratori parlavano di una decultazione dello stipendio? L'amministrazione comunale si è impegnata a corrispondere a tutti la somma pari al 200 euro al mese. È evidente che questa corrispondizione farà sì che qualcuno dovrà lavorare per le ore commisurate a questo compenso. Io riterrò di dover dire qualche cosa, pubblicherò tranquillamente sul sito della GESIP perché ho visto che funziona quello che... Grazie. Grazie.